Parliamo oggi di un interessante argomento di carattere scientifico e naturalistico. Ne parliamo con Maurizio Fosari che è uno zoologo e parliamo di un'indagine naturalistica sulla presenza dell'arvicola delle nevi nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Ecco, come è nata l'idea di realizzare questa indagine? Allora, l'idea è nata dopo degli avvistamenti che erano stati fatti di questo animale Parco Nazionale dei Sibillini, tra cui uno fatto dal sottoscritto, l'ultimo è avvenuto nel 2012. Dopo che c'erano stati questi avvistamenti che però non avevano una valenza completa scientifica, abbiamo deciso di provare a presentare un progetto che permettesse di indagare una volta per tutte l'assenso, la presenza dell'arvicola delle nevi all'interno del Parco. Quindi il progetto che è stato finanziato dal Ministero dell'Ambiente su proposta di ricerca dell'ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini, è partito quest'anno alla fine della primavera del 2014 e si è protratto fino a circa la metà di settembre di quest'anno. Ecco, e allora dopo diversi mesi di indagine approfondita, a quale conclusione siete arrivati? Allora, finalmente dopo diversi tentativi andati a vuoto, in cui in ogni caso si erano riusciti a raccogliere diversi dati interessanti sulla presenza anche di altri piccoli topi che utilizzano e che vivono negli ambienti di alta montagna, alla fine, il 10 settembre del 2014, siamo riusciti finalmente a catturare il primo esemplare di arvicola delle nevi che si è stato appunto mai trappolato sui Monti Sibillini. Tengo a precisare che le trappole che venivano utilizzate sono delle trappole costruite appositamente per la cattura dei piccoli rovitori e sono delle trappole totalmente incruente e l'animale una volta catturato è stato determinato ed immediatamente liberato. Rivolgo ora a lei una domanda che sicuramente si faranno in molti, perché investire dei fondi pubblici, quindi del Ministero e quindi ovviamente anche del Parco Nazionale dei Monti Sibillini su un'indagine come questa? Qual è l'utilità? Certo, in effetti perché spendere dei soldi, degli fondi, soprattutto in questo periodo, per animali piccoli, a volte insignificanti e così via, come sembra e più, ma inizialmente perché noi conosciamo ancora poco di gran parte dei nostri ecosistemi, soprattutto di animali piccoli, partire dagli invertebrati, agli anfibi, insomma i micromammiferi, e quindi noi non conoscendo bene questa comunità, la presenza di questi animali, in pratica non sappiamo come reagiscono eventuali cambiamenti ambientali, ma anche a problematiche che possono essere, diciamo così, più generali, che possono portare poi dei problemi anche all'uomo. E poi ovviamente noi studiamo questi animali, anche perché spesso i literi sono anche delle normative internazionali, a partire dalla direttiva Habitat, che impongono quasi agli Stati membri, in questo caso l'Unione Europea, in pratica di fare risvolgere di monitoraggio delle ricerche su specie di interesse comunitario.